parliamo ora del metodo dei potenziali di nodo supponiamo di avere una rete per esempio di questo tipo abbiamo sette rami e quindi sette correnti il che si traduce nella necessità di scrivere un sistema di sette equazioni per risolvere la rete vedremo che con il metodo dei potenziali di nodo bastano solamente tre equazioni i nodi di di primo e di secondo sono come abbiamo già visto più volte nodi equipotenziali e quindi dal punto di vista elettrico equivalgono ad un unico nodo di e questo nodo di in questo particolare esempio viene anche preso come riferimento per le tensioni infatti qui vedete comparire il segno di terra o di ground o di massa una volta stabiliti i versi che sono comunque una scelta arbitraria delle correnti scriviamo le equazioni ai nodi a b e c secondo il primo principio di kirchhoff per esempio per il nodo a avremo i1 corrente che entra nel nodo uguale ad i2 più i3 somma delle correnti che escono dal nodo per il nodo b avremo i2 corrente che entra nel nodo e icc4 corrente che entra nel nodo uguale alla somma di i4 più i5 correnti che escono dal nodo b e ancora per il nodo c avremo la corrente i5 che entra nel nodo e le correnti i7 e i6 che escono quindi i5 uguale i6 più i7 abbiamo semplicemente fin qui applicato il primo principio di kirchhoff ora applichiamo la legge di ohm generalizzata per i vari rami per esempio potremmo scrivere che uad la tensione tra i e d è data seguendo questo bipolo e1 da e1 meno r1 i1 in base alla convenzione dei segni che abbiamo più volte visto e quindi da questa equazione ricavare la i1 e otterremo i1 uguale e1 meno uad fratto r1 e così procediamo per gli altri rami i2 la legge di ohm è molto semplice perché uab fratto r2 ci dà immediatamente l'espressione della corrente per quanto riguarda la i2 passiamo adesso alla i3 anche i3 è semplice uad fratto r3 non c'è nessun problema i4 è data da ubd fratto r4 i5 da ubc differenza di potenziale tra b e c fratto r5 notate che i segni sono positivi perché le correnti evidentemente come in questo caso va da b e c quindi è da considerarsi positiva l'abbiamo più volte ricordato questo aspetto ucd è uguale secondo le convenzioni dei segni a meno e6 più r6 i6 forza elettromotrice da prendersi col segno meno perché il polo positivo è orientato verso d e corrente da prendersi positiva perché percorre il bipolo da c verso d ritenendo noi il punto c a potenziale maggiore rispetto al potenziale del punto d e quindi da qui ricaviamo i6 uguale e6 più ucd fratto r6 andiamo avanti naturalmente per quanto riguarda il ramo 7 scriviamo la legge di ohm generalizzata uguale ad u7 più r7 i7 quindi ricaviamo i7 ucd meno e7 fratto r7 adesso queste relazioni che abbiamo trovato le inseriremo nelle equazioni che abbiamo scritto prima relative ai primi principi di kirchhoff vediamo allora per quanto riguarda i1 uguale i2 più i3 dovremmo sostituire in base ai calcoli che abbiamo effettuato prima e1 meno uad fratto r1 che corrisponde all'ai1 uguale a uab fratto r2 che corrisponde all'ai2 più uad fratto r3 che corrisponde all'ai3 e questa operazione via via la facciamo per tutti gli altri nodi e quindi qui per il secondo nodo otterremo uab fratto r2 più che è l'ai2 icc4 che resta uguale a se stessa i4 era ubd fratto r4 e i5 era ubc fratto r5 e scriviamo adesso l'altro nodo ubc fratto r5 la i5 uguale ad e6 più ucd fratto r6 che era la i6 più ucd meno e7 fratto r7 che era la nostra i7 possiamo anche esprimere le stesse equazioni quindi le tre equazioni questa questa e questa mediante le conduttanze che ricordiamo sono i reciproci delle resistenze per esempio g uguale a 1 diviso r e quindi scriveremo nel caso della prima separando anche la frazione g1 e1 meno g1 uad uguale a g2 ab più g3 uad per la seconda equazione scriveremo g2 uab icc4 resta uguale a g4 ubd più g5 ubc e per la terza scriveremo g5 ubc uguale a g6 e6 più g6 ucd più g7 ucd e meno infine g7 e7 adesso scriviamo le differenze di potenziale e scriveremo che uad è uguale ad ua meno ud ovviamente questa scrittura implica che si consideri un certo potenziale di riferimento per esempio opposto a terra opposto all'infinito rispetto al sistema elettrico che stiamo considerando possiamo sempre dire che rispetto ad uno stesso sistema di riferimento come abbiamo del resto detto in una delle prime lezioni uad è data della differenza dei potenziali del nodo a meno la differenza del potenziale del nodo d rispetto ad uno stesso sistema di riferimento così scriveremo uab uguale ad ua meno ub e ancora ub c uguale ub meno uc ubd è uguale a ub meno u ud ucd uguale uc meno u uc però come abbiamo detto prima abbiamo preso proprio il nodo D come riferimento dei potenziali aver preso come riferimento dei potenziali il nodo D significa porlo a potenziale 0 quindi per noi UD sarà uguale a 0 volt a questo punto possiamo scrivere i potenziali senza ovviamente far comparire la UD ovunque compaia quindi avremo che UAD è semplicemente uguale ad UA il potenziale del nodo A sottinteso rispetto a D UBD è uguale al potenziale del nodo B sempre rispetto a D UCD è uguale semplicemente a UC e quindi avremo unicamente tre incognite in luogo delle sette se avessimo utilizzato le correnti come incognite abbiamo qui le tre incognite che sono i potenziali dei nodi UA, UB e UC grazie a tutti